ciao benvenuti e bentornati nel canale come ogni giorno vi faccio vedere la spesa dei miei 10 euro al giorno per una famiglia di quattro persone oggi l'ho messo un po più tardi il video perché ho avuto dei problemi audio adesso vi faccio vedere il tutto allora la mia spesa di oggi guardando sempre lo scontrino vediamo se si vede 10 euro e 31 centesimi ho sforato di appena appena diciamo che va benissimo almeno per me partiamo dalla colazione oggi vi faccio vedere le famosissime vivande al cioccolato che finalmente le ho trovate per mia figlia almeno siamo a posto per tre giorni quindi per tre giorni queste non le comprerò poi ho comprato due litri di latte questi erano scontati costavano 59 centesimi se non mi sbaglio quindi ne ho comprati due e dopo vi faccio anche vedere cosa ne farò ovviamente questo è il latte per me per il bimbo allora per il pranzo ho pensato oggi aspetti da un certo ho preso le polenta come primo che almeno sazia un bel po e poi ho preso queste qui che piacciono a ogni bambina anche a me piacciono tantissimo queste queste qua vi volevo spiegare io ho una frigitrice ad aria io la trovo veramente molto comoda qualche giorno ve la farò vedere l'utilizzo della frigitrice d'aria un po lo sto sperimentando ancora che io per questi li ho già fatti c'è nel giro di poco tempo sarà quanto dieci minuti forse un quarto d'ora per le cuocere ma io la trovo comoda perché almeno col bambino piccolo non li faccio mangiare troppi fritti visto che è intorno ai due anni insomma non ha neanche tre anni preferisco non dargli troppo fritto cioè proprio meglio così fate anche le patatine fritte che comprerò che oggi non le ho prese perché sono surgelate sono le classiche affaccine non le ho prese perché andando a piedi poi da casa al supermercato e viceversa rischiamo di scongelarsi ecco perché non mi sembra tanto buono poi per il pomeriggio la nostra maglia sarà per tutti dei bloom cake quindi di conseguenza molto probabilmente o ne rimarranno due oppure anche se finiscono domani cambieremo la meronda per la cena io ho comprato sempre un po di pasta con della passata di pomodoro e sempre un po di bistecchina adesso sono un po combattuta se fare diciamo le bistecche con la passata e condire la pasta oppure con il latte che mi rimane perché io ho preso due litri di latte e fare del purè molto probabilmente farò un po di purè così almeno anche quello stazia di più la cosa bella di oggi che mi posso dire che domani o dopo domani mi toccherà fare la spesa doppia cioè da 25 euro poco poco di più del budget dei dei mie 10 euro quindi probabilmente sabato domenica domenica lunedì farà una spesa intorno ai 25 euro questo perché quando sono andata a fare la spesa la cassiera mi ha detto guarda che hai superato la soglia e quindi puoi prendere tre buoni sconto lei mi ha chiesto quanta noi vuoi e mi ha detto dammene uno e mi ha detto guarda che devi spendere almeno 25 euro se spendi 25 euro hai 5 euro di buone quindi è come se ne spendessi 20 quindi sto sempre nel budget dei due giorni quindi per me è conveniente già farò una spesa conveniente perché comunque questa settimana ho notato che nel supermercato ci sono veramente tanti sconti questa settimana adesso non so se nominarò il supermercato oppure no però ci sono tanti bei sconti nel senso che secondo me con circa 25 euro prendo un bel po' e quindi in questi due giorni mi toccherà fare questa spesa qua perché così almeno arrivando ai 25 euro mi spenderò più cose ecco la cosa che mi ha detto la ragazza è che mi ha detto quando vieni per fare la spesa di lì che devi scaricare un altro buono e la volta dopo ancora dillo di nuovo che così ti danno un altro buono ai 5 euro quindi di conseguenza avendo questi tre buoni io dovrò fare la spesa più o meno ogni due o tre giorni quindi ci vedremo ogni due giorni per questa settimana che così almeno ho il doppio dello sconto perché oltre agli sconti classici non ho anche questi buoni adesso lo faccio vedere un attimo vediamo se si vede ok dovrebbe essere qua sotto vediamo se riesco a farvelo vedere se c'è scritto premio con sconto comunque quindi mi ha detto mi raccomando non perde poi io sono già felice già su quello perché comunque basta parlare di sconti noi siamo qua per parlare di sconti di risparmio eccetera eccetera il pane non l'ho preso perché avevamo quello a fette in più avevamo del pane di ieri che avevo preso dal fornaio che lo taglierò a fette e ci metto su un po' di pomodori che mi hanno regalato quindi faccio delle specie di bruschette ecco diciamo così come aiuto al pasto allora c'è gente qualcuno che mi ha chiesto di ovviamente quello con cui compro insomma con quello che faccio la spesa più avanti cercherò di organizzarmi per farvi vedere più o meno quello che faccio così almeno avete anche delle ricette long post così almeno mi seguite passo passo e quindi ci vediamo domani mi raccomando seguitemi mettete un like così almeno se volete anche scrivere comunque cresce il canale io ne sono stra felice ci vediamo domani un bacio a presto ciao ciao